E' il terzo bicchiere stasera. Te lo ripago. Bevi per dimenticare o ricordare? Non ti becchi la mancia se ti impicci. La mia famiglia è morta in un incidente stradale. Hanno fatto degli esperimenti su di me. E adesso non riesco ad evitare questa storia del giustiziere. Conosci Captain America? Vuole assorbire l'Alias Investigations? Non vuole me, ma solo eliminare la concorrenza. Non accetto mai uno. E' un po' aggressivo. Dietro queste porte è successo qualcosa. Ho ben 17 anni di domande e non sono superficiali. Jess, non sapere che mi è stato fatto ti potrebbe servire. Ci hanno creati qui. Io e qualcos'altro. Chiunque sia, posso trovarlo solo se apro di più la porta. Sei stata riportata in vita. Le poterie erano un effetto collaterale. Quante persone come me... ...lascia stare. Un'assassina. Non si può controllare tutto. Sai, io non ho chiesto un bel niente. Jessica potrà non volere un aiuto, ma stasera ne ha bisogno. Non sei super. Sei una bomba a orologeria. Continua a dirmi chi sono, coraggio. Se affronto il problema è peggioro. Che cosa intendi fare? Non lo so. Dipende se supero questa fase senza perdere le staffe. Ci vuole un mostro per fermare il mostro. Che cosa ci hanno fatto? Che cosa ci hanno fatto?